Un importante anticipo aprirà la quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Venerdì si troveranno di pronte per una sfida incrociata, Europa scudetto Atalanta e Juventus. Entrambe arrivano da inimportanti risultati, i bergamaschi che hanno battuto il Bologna con il punteggio di 3-2 e la Juventus che ha eliminato il Genoa con una pratica semplice 4-0, mettendo così la condizione di avere più 11 punti di vantaggio nei confronti della Roma. Per l'Atalanta se dovesse arrivare una importante vittoria contro la sonata squadra di Massimiliano Allegri potrebbero riaprirsi ancora le porte per quanto riguarda la lotta scudetto che almeno per il momento sembrerebbe già segnata. Nel computo della classifica la Juventus ha 83 punti con un bilancio di 27 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte mentre i bergamaschi a quota 63, 19 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte. Il tutto in attesa di un importante evento di Champions League mercoledì contro il Monaco. Tutto da scoprire, Mimmo Siena, Speciale News.